Ha auspicato che la foltissima platea dei giovani partecipanti al concorso grafico pittorico dei risi da Gubbio possa vivere la festa dei Ceri nel segno della profonda devozione per il patrano Sant'Ubaldo, il vescovo di Gubbio Mario Cecco Belli, nel corso della premiazione dell'iniziativa che la famiglia dei Sant'Ubaldari organizza per incentivare la conoscenza e la partecipazione dei giovani alle tradizioni cittadine. Vorrei che il Cero fosse vissuto come segno della città che sale al monte, ha detto il preso l'Eugubino, altrimenti perde di senso. Da 26 edizioni la famiglia dei Sant'Ubaldari chiama i bambini da 3 a 11 anni delle scuole eugubine a dare sfogo alla loro creatività con ogni mezzo e tecnica sul tema della festa dei Ceri nei suoi vari aspetti. Quello che ne scaturisce è un ritratto della festa realizzato con gli occhi e il cuore dei bambini, con il loro modo di interpretare, sentire e vivere la festa con il sentimento e lo spirito dei ceraioli in erba. Un'affermazione sintetica ma efficace direi il modo genuino, spontaneo e vivo di vivere la festa, quindi con il cuore e l'animo dei bambini. Poi ci pensiamo noi grandi a complicare le cose, però dagli elaborati emerge una festa vivissima e poi lo spirito tipico ceraiolo eugubino. È un concorso che va molto bene, grande la partecipazione per cui siamo come famiglia dei Sant'Ubaldari molto soddisfatti dell'esito e della partecipazione. Tanti premi distribuiti nel corso della cerimonia finale che chiude il periodo ceraiolo, nessuna classe è stata esclusa nei riconoscimenti decretati dalla giuria. Nel corso dell'appuntamento è stato anche ricordato il compianto Tito Mazzacrelli. Premiate le prime tre opere singole, premi speciali sono andate alle opere ritenute meritevoli per originalità tecnica e creativa. Cinque premi speciali il ricordo del maestro Tonino Sannipoli che nel 1987 realizzò e donò i ceri piccoli al Maggio Gubino. Ai cinque vincitori è andata una litografia tiratura limitata su acquerello realizzata da Luciana Fumaria. Per tutti una pergamena di partecipazione e un piccolo dono dedicato al patrono e gli elaborati premiati vengono conservati in un archivio che confluirà nel centro documentazione e studi sulla festa di recente Costituzione.